Bianconeri, sulle scelte, e forza Juve! Possibilità di vedere in tv presso il club tutte le partite Possibilità di sconti su acquisto materiale Piccolo gadget in omaggio Vini a trovarci presso la nostra sede in piazza Matteotti 22 Lizzano Per contatti Antonio 348 80 8 8 8 0 3 Cristian 349 68 000 66 Giuseppe 347 04 17 623 Non ti resta che diventare socio e grida con noi Forza Juve fino alla fine!